La vitamina D, un ormone dotato di azioni pleiotropiche, e questo è il titolo di un convegno di alto livello scientifico organizzato a Torino nella splendida cornice del castello di Valentino, un edificio costruito a partire dal XVI secolo che attualmente ospita la facoltà di architettura. Facciamo il punto proprio sulla vitamina D e sulle attività a 360 gradi, sia quelle scheletriche sia extrascheletriche, con il professor Giustina che ha tenuto una lettura magistrale proprio su questo tema. Allora professore, cominciamo dall'inizio, dalla sintesi della vitamina D, come viene sintetizzata e che differenze ci sono tra il giovane e l'anziano? La fonte principale di vitamina D per l'organismo è la vitamina D che produce la cute, cioè la pelle, in risposta alla irradiazione solare. Quindi i raggi del sole stimolano la pelle a produrre vitamina D e questo è l'80% del fabbisogno giornaliero di vitamina D per l'organismo. Questo è un processo molto efficace nel giovane, quindi la pelle è molto attiva nel produrre vitamina D, ciò invece purtroppo non succede nell'anziano. La pelle dell'anziano è poco capace di produrre vitamina D in risposta ai raggi solari. Quindi questo crea già le premesse per una possibile ipovitaminosi. Di quanta vitamina D abbiamo bisogno, professore? Cosa ci dicono le linee guida? Le linee guida ci dicono che il vecchio concetto delle 400 unità giornaliere di vitamina D oggi è ampiamente superato. Oggi si devono somministrare almeno 800 unità internazionali di vitamina D al giorno, ma dato che l'alimentazione ne può introdurre poche e che ci sono dei mesi in cui nessuno è esposto alla luce solare, soprattutto i mesi invernali, questo fabbisogno di 800 unità può tranquillamente salire a 1000-1200 nei mesi invernali. Ecco, c'è proprio un riscontro clinico dell'effetto della stagionalità sulla ipovitaminosi? Assolutamente sì, si possono avere diversi studi che hanno dimostrato come nei mesi invernali sia molto più frequente l'ipovitaminosi D rispetto ai mesi estivi e questo è un fenomeno che è vero a tutte le latitudini. Ecco, si sente dire che in Italia le persone sono particolarmente carenti di vitamina D, è un fatto vero, professore? Come mai siamo più carenti noi rispetto ai paesi del nord d'Europa che al contrario hanno molto meno sole di quanto ne abbiamo noi? Sì, questo è il cosiddetto paradosso scandinavo, è vero, i paesi scandinavi che sono poco, diciamo così, poco godono dei raggi della luce del sole hanno portato il tempo questi paesi a fortificare di vitamina D i cibi e quindi a prevenire l'ipovitaminosi D. Nel nostro paese che invece gode spesso e volentieri dei raggi del sole a questo non si è pensato e purtroppo come abbiamo visto ci sono lunghi mesi in cui la luce solare non c'è e quindi noi rimaniamo vittime in qualche modo del nostro stesso clima e della nostra stessa localizzazione geografica. Ecco, un altro punto diciamo così da chiarire che comunque merita una puntualizzazione è quello dell'unità di misura da utilizzare per esprimere il dosaggio della vitamina D. Ce ne sono diversi, ecco qual è quello giusto, professore? Ma direi che nel nostro paese oramai si è affermata la misurazione in unità di misura nanogrammi per millilitro e quindi cut off per la sufficienza, insufficienza o carenza di vitamina D sono tarati su queste unità di misura. Però ancora ci sono laboratori che misurano la vitamina D nanomoli litro soprattutto all'estero. È auspicabile che tutti esprimiamo la vitamina D nelle stesse unità di misura anche per rendere gli studi effettuati in paesi diversi sovrapponibili. Ecco, quali sono questi cut off? Ce li può dire? Ma sostanzialmente 30 nanogrammi per millilitro è considerato un valore di sufficienza, tra 20 e 30 insufficiente e sotto i 20 carente. Ecco, professore, adesso passiamo agli effetti sull'apparato scheletrico della vitamina D, poi vedremo gli altri. Ecco, innanzitutto, come si manifesta dal punto di vista farmacologico l'attività della vitamina D? Come mai influisce positivamente sul metabolismo del calcio? La vitamina D ha due azioni fondamentali. Stimola e permette l'assorbimento di calcio a livello intestinale e facilita la deposizione di calcio sull'osso neoformato rendendolo competente. Ecco, dal punto di vista clinico che dati abbiamo sull'effetto della ipovitaminosi, cioè della carenza di vitamina D e su un eventuale aumento di fratture? C'è questa correlazione? Direi che i dati più autorevoli, anche i dati pubblicati recentemente su New England Journal of Medicine, dimostrano come somministrare 800 unità internazionali di almeno di vitamina D in soggetti carenti della stessa, cioè con bassi livelli basali di vitamina D, porta a una riduzione del rischio di frattura femorale del 30% e una riduzione del rischio di frattura non vertebrale in toto del 15%. Quindi dati inequivocabili? Sono meta-analisi di numerosi trial pubblicati, quindi direi che sono qualcosa di più di un singolo studio, un'analisi di più studi. Ovviamente, diciamo così, la qualità dei singoli studi influenza poi il dato finale, per cui l'inequivocabilità in medicina è sostanzialmente non sempre possibile, però sono indicazioni importanti. Ecco, l'altro effetto possibile è quello sulle cadute. C'è una relazione tra la carenza di vitamina D e l'aumento di cadute e quindi poi di fratture, ovviamente? Sì, il rischio di caduta è fondamentale per determinare la frattura in molti soggetti, soprattutto anziani. La vitamina D ha degli effetti a livello muscolare, a livello dell'equilibrio, che rendono il soggetto in qualche modo protetto da un rischio di caduta. Quindi questo aspetto contribuisce, insieme agli effetti prettamente scheletrici, a ridurre il rischio di frattura. Ecco, professore, lei qui nella sua lettura magistrale ha suddiviso la sua relazione fondamentalmente in due parti. Nella prima parte abbiamo parlato degli effetti sul metabolismo del calcio, e la seconda parte invece è sugli effetti extrascheretici, quindi concentriamoci su quelli. Professore, vitamina D e metabolismo glucidico, quindi sostanzialmente diabete, c'è una relazione? Direi di sì, ci sono due forme principali di diabete, il diabete del tipo 1 o diabete giovanile, in cui il dato principale è l'aggressione autoimmunitaria contro la betacellula che produce insulina. In questi soggetti e soprattutto negli studi sperimentali, la vitamina D ha mostrato una protezione in sostanza dall'aggressione autoimmunitaria della betacellula. Nel diabete del tipo 2 invece c'è soprattutto una ridotta secrezione insulinica, ma anche, direi, nelle prime fasi prevalentemente un'aumentata insulina resistenza. Pare che anche in questa situazione la vitamina D possa avere un effetto diretto, modulatorio sulla secrezione dell'insulina e indiretto sulla riduzione dell'insulina resistenza che possano proteggere i soggetti anche dal rischio di diabete di tipo 2. Carenza di vitamina D e malattie cardiovascolari, in particolare l'infarto, c'è un effetto, c'è avere poca vitamina D, può aumentare il rischio di infarto? Sì, c'è un'associazione significativa fra ipovitaminosi D e rischio di infarto, cioè fra soggetti che abbiano vitamine D al di sotto dei limiti di sufficienza e soggetti che abbiano vitamine D al di sopra di questi limiti, il rischio sembra addirittura raddoppiare. Ecco, per ultimo, professore, il tema del cancro, che è sempre un argomento molto delicato. C'è una relazione, c'è un'associazione tra bassi livelli di vitamina D e aumento del rischio di cancro? Sì, ci sono degli studi autorevoli che dimostrano come vi sia un'associazione epidemiologica fra bassi livelli di vitamina D e alcune tipologie di cancro, il cancro del colon e il cancro della mammella. Recentemente, molto recentemente, è apparsa su una rivista prestigiosa di Anna Sovintenal Medicine una valutazione meta-analitica e di meta-regression sui vari studi disponibili in termini di intervento. Quello che è emerso è che la valutazione del rischio di tumore è ridotta per quello che riguarda il rischio del cancro del colon significativamente dalla somministrazione di vitamina D. Non vi sono dati significativi sulla mammella e sulla prostata. Direi che in linea di massima queste riduzioni sono però statisticamente significative per il cancro del colon ma in termini assoluti piuttosto modeste. Quindi siamo su questo aspetto, come ha detto lei, molto delicato, in attesa di conferme e di estensioni, cioè studi che coinvolgano molte migliaia di pazienti per poter dire una parola definitiva. Per finire, professore, che messaggio possiamo dare ai pazienti o comunque alle persone normali, diciamo così, e ai medici su questo tema? Io direi che possiamo dare, diciamo, cinque messaggi. Il primo messaggio è che la vitamina D è un ormone, perché tale è, un ormone fondamentale per la salute dell'osso. Che la somministrazione di vitamina D riduce nei soggetti fortemente carenti il rischio di frattura e che questa riduzione è in parte dovuta alla riduzione del rischio di caduta. Che la vitamina D è un ormone importante anche per una serie di altri organi apparati oltre all'osso. Ci sono però meno evidenze significative sul ruolo dell'intervento di vitamina D per quello che riguarda gli eventi di cui abbiamo parlato, l'infarto del miocardi, in generale le cardiopatie, il diabete mellito, le malattie neurodegenerative e il rischio di tumore del colon. La vitamina D è associata anche a una migliore sopravvivenza dei soggetti in generale e questo è un dato estremamente significativo e che in qualche modo fa da pandan con gli effetti cardiovascolari e oncologici anche se ci sono delle recenti evidenze come vi sia un effetto curva per cui ha altissimi valori di vitamina D circolante e potrebbe non corrispondere a un miglioramento della mortalità. Quinto e ultimo messaggio, l'ipovitaminosi D è un evento molto frequente alla nostra popolazione ricercarlo e curarlo e trattarlo è a mio parere una dimostrazione di buona pratica clinica. Quindi vale la pena di preoccuparsi dei propri livelli di vitamina D? Livelli di vitamina D nelle popolazioni ovviamente che noi sappiamo essere a rischio, la popolazione geriatrica, il paziente che è caduto, il paziente che si è fratturato, il paziente che viene all'ambulatorio dell'osteoporosi. Questi sono pazienti in cui il dosaggio tra 25 e idrossi vitamina D è da considerare un dosaggio cosiddetto di primo livello.